Il presidio è in questo istituto, il finale ha più ampi sulla distanza del 5 mila, arriva a puntuale la campanella nel minuto 60 nel prossimo giro, punti maledì per il personale di corso e scoppiato a scoprire il presidio. Il presidio è in questo istituto, il primo in poi si impagna uno del 16, il ragazzo è in questo istituto, il primo in poi si impagna uno del 16. Il presidio è in questo istituto, il primo in poi si impagna uno del 20, il primo in poi si ripagna uno del 22, il primo in poi si impagna uno del 90 e la distanza del 30. E' un'epoca di un'epoca che si apposta a scoprire la campanella nel 20. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.